Sagra del gol nel derby di giornata del Girone F con l'Avastese che con un secondo tempo magistrale non lascia scampo al giovane Nereto di Del Grosso, punito però oltre i suoi demeriti. All'Aragona finisce 5-2 con i sette gol segnati tutti nella ripresa. Per la squadra del presidente Franco Bolami è arrivato il sesto risultato utile consecutivo. Al nono primo squillo con un tiro centrale di Cipriani per gli ospiti con Di Rienzo che para a terra. I rossobruci riprovano al tredicesimo con Raymond che chiama il portiere di casa alla respinta. Meglio il Nereto nella prima parte di gara grazie ad un miglior approccio. La classifica dir poco deficitaria costringe i ragazzi di Federico Del Grosso a provare a fare la partita. L'aggressività Neretese crea più di qualche problema ai padroni di casa che non riescono mai seriamente ad impensierire il portiere del Nereto Diglio. I ragazzi di D'Aderio sembrano accusare anche un po' di stanchezza dopo il recupero con il Montegiorgio. In evidenza fra gli ospiti il classe 2002 Andrea Monaco, scuola Pescara. E bisogna così attendere il trentasettesimo per vedere la prima vera occasione locale con Alonzi che in area da posizione propizia alza incredibilmente sopra la traversa. Al quarantaquattresimo l'attaccante bianco-rosso ci riprova e ancora dall'interno dell'area concludendo a fil di palo. Finale di tempo ora a tinte bianco-rosse con il Nereto che però regge e con il primo tempo che si chiude così senza reti. Nella ripresa al secondo sugli sviluppi di un angolo Allegra tutto solo di testa colpisce male permettendo a Diglio di parare. Al quinto ancora va stese con un tiro di controbalzo di Monza che non inquadra lo specchio della porta Neretese. Avvio di secondo tempo deciso degli Aragonesi che colpiscono un palo al decimo con Alessandro e poi al tredicesimo trovano il meritato vantaggio con la rete di Alonzi che dopo il tocco di Di Filippo probabilmente sulla linea mette il pallone definitivamente alle spalle di Diglio regalando così il gol alla sua squadra. Ora gli ospiti dopo un buon primo tempo appaiono seriamente in difficoltà con la vastese costantemente in attacco e con Alessandro che al diciassettesimo raddoppia con un pallonetto che non lascia scampo a Diglio in uscita disperata. La squadra di Del Grosso sparisce dal campo e al ventesimo c'è così il trissaragonese con Monaco che atterra in aria scafetta. Boiani di Pesaro indica senza esitazione il dischetto con Alessandro che spiazza il portiere del Nereto per il 3-0 che fa in pratica calare con largo anticipo i titoli di coda sul derby. Al ventinovesimo Alonzi per i locali sfiora infatti il poker alzando il pallone di pochissimo sopra la traversa. Il Nereto generoso però non ci sta e al trentaduesimo riesce a segnare il gol del 3-1 con Pedalino che di testa in aria non sbaglia. Ma la vastese è implacabile e al trentacinquesimo con Agliello fa 4-1 grazie ad una conclusione dalla distanza del centrocampista. Gara chiusa ma non in fatto di gol perché al quarantasesimo Boito ne ho entrato in casa Nereto fa 4-2 e poi ad una manciata di secondi dal trebice fischio finale Stivaletta arrotonda definitivamente il punteggio con la cinquina aragonese. Da Derio questa è una vastese che piace, questa è una vastese che ora va di corsa, sesto risultato utile e consecutivo. Se dobbiamo essere veramente onesti e sinceri oggi non è che sia piaciuta tanto, se ci facciamo prendere dai gol abbiamo un po' le idee offuscate. Guardo anche la prima mezz'ora dove non abbiamo fatto un tiro in porta e quindi bisogna essere realisti, dobbiamo essere sempre concentrati, applicati che si giochi contro il Nereto o che si giochi contro la prima in classifica. Però l'attenuante su tutto questo è che c'è una difficoltà in questo momento e è quella che se i ragazzi hanno avuto il Covid, se i ragazzi non stanno al 100% e lo si vede perché quando vediamo Alessandro che prende palla e ne perde su 10 palloni, ne perde 8, qualche difficoltà c'è. Ma è normale, non si ha la bacchetta magica, non si cambia stato fisico dall'oggi al domani, dobbiamo pian piano recuperare quello che era la nostra forma fisica. A questo punto qual è l'obiettivo della vastese? Le chiedo, si può iniziare a fare qualche pensierino sulla zona playoff? Io i pensierini facevo quando facevo le scuole elementari e c'era scritto pensierini, ok, quelli poi li portava la maestra e me li correggevo. Io sono uno che non ha i pensierini, io lavoro giornalmente, quotidianamente, sono applicato nelle cose che voglio fare, penso che il futuro lo determina il lavoro del presente e quindi dobbiamo essere bravi a lavorare. Oggi il presente dice che abbiamo una squadra in difficoltà e quindi dobbiamo lavorare per recuperare quella forma e quella forza che in questo momento qui non abbiamo. Dando il risultato potrebbe ingannare questo 5-2, secondo me è un risultato bugiardo, anche se la forza della vastese non la scopro io, è uscita fuori le individualità importanti che ha la vastese, purtroppo abbiamo pagato delle disattenzioni dove in questa categoria, soprattutto nella situazione nostra, non possiamo permetterci queste disattenzioni. Però devo dire che in alcuni momenti della gara i ragazzi hanno dato tutto e in alcune situazioni il Nereto non mi è dispiaciuto affatto.